C'è 17, scappa! Il mostro ha sconfitto Junior. Sarà difficile per noi. Oh no, gli ha rotto l'osso del collo! Non ci voleva! A quanto pare sono diventato troppo forte, eh? Forse ho eliminato più persone di quelle che mi servivano per riuscire ad assorbire l'energia dei due cyborg. E adesso... Oh no! L'ho proprio annientato! Sapevo che quello era troppo forte per lui. Niente da fare. Laura di Junior è sparita. Supremo! Gohan! Dove vai? Aspetta! Oh no, Junior, no! Dimmi che non è vero, Junior! Lasciami! Lasciami! Lasciami andare! Calvati, Gohan! Non c'è niente che possiamo fare adesso! Non puoi andare! Non possiamo fare altro che aspettare! Hai capito? Aspettare! Un robot di Vegeta! Ma quanto ci metti? Ecco... Quell'illuso di Junior è sistemato. Non c'è niente che 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 non c'è